Le punture di zanzare tigre, zanzare comuni e pappataci possono trasmettere virus e parassiti responsabili di malattie anche gravi. Proteggi te e i tuoi familiari. Previeni la diffusione di questi insetti. Elimina i ristagni e gli accumuli di acqua nei giardini, negli orti e sui balconi. Svuota e pulisci regolarmente vasi, cisterne, grondaie, tombini, vasche, giochi e ciotole. Quando non è possibile, tratta l'acqua con prodotti larvicidi e proteggi i tombini con reti zanzariere. Pulisci il cortile o il giardino da foglie, sfalci d'erba e rifiuti organici, dove i pappataci possono riprodursi. Evitare di farsi fungere è una misura di prevenzione altrettanto fondamentale. All'aperto indossa abiti chiari e coprenti, applica prodotti repellenti sulle parti scoperte del corpo ed evita profumi, creme e dopo barba. In casa usa zanzariere, condizionatori d'aria, elettroemanatori di insetticidi. Quando viaggi, prendi tutte le precauzioni prima, durante e dopo il tuo soggiorno. Presso le aziende USL puoi informarti su tutti i rischi sanitari del paese di destinazione. Per saperne di più, vai su zanzaratigreonline.it oppure chiama il numero verde del Servizio Sanitario Regionale 800 033 033.